Le labbra cucite, i digiuni, l'occupazione oltranza e prima ancora le risse, le rivolte, gli incendi, le fughe, le vene tagliate, i tentati suicidi e i suicidi. Sono sempre le azioni drammatiche e plateali a riportare periodicamente in primo piano la tragedia di chi attraversa la scandalosa esperienza dei CIE. Erano dodici, ma per danneggiamenti o ristrutturazioni al momento ne funzionano a pieno ritmo solo quattro. Luoghi di degrado totale senza un vitto decente con riscaldamenti e acqua calda che vanno e vengono, le docce rotte, i materassi a terra, le lenzuole e gli asciugamani di carta. Passa in genere molto tempo prima che lì dentro gli immigrati siano identificati e poi rispediti verso i paesi d'origine. Tanti sono ex detenuti senza permesso di soggiorno che a fine condanna escono e passano dalla padella nella brace. Nei CIE c'è questa condizione per quanto riguarda quelli che escono dal carcere per un fine pena perché non sono identificati dal carcere e quindi vanno immediatamente, automaticamente, perfino se hanno un lavoro in carcere o l'hanno avuto quando stavano in carcere con il lavoro esterno, vengono mandati al CIE perché devono essere identificati per la nazionalità. Il CIE è un luogo infame, se si va a vedere come è fatto si vede che è meglio stare in carcere che al CIE. In attesa che si metta mano alla Bossi Fini e si decida sull'eventuale chiusura dei CIE, la pressione dovrebbe essere alleggerita dal decreto svuota carceri appena varato. Impone che l'identificazione dei detenuti stranieri irregolari avvenga prima, in carcere, anziché dopo nel CIE. Oggi è previsto che in questi centri si rimanga al massimo 18 mesi. L'emergenza del momento induce il governo ad attivarsi, forse con un decreto che abbassi e di molto, il tempo a disposizione per scoprire identità e origine degli immigrati. Peraltro la loro permanenza nei centri della vergogna ha un costo elevato. Lo Stato paga per ogni ospite 41 euro al giorno.